L'obiettivo della ripresa per la terza fase dopo Covid è insufficiente e termine ripresa che è insufficiente, perché ripresa significherebbe tornare a labirinti normativi e culturali nei quali naufragano le persone oneste e si muovono agevolmente mafie e corruzioni. Significherebbe annaspare e quindi cedere il passo a paesi orientati da tutt'altro genere di valori, visto che la competitività internazionale sarà senza freni e con qualche crudeltà. Serve invece una nuova nascita, una nuova nascita, una spinta anche ideale che valorizzi le capacità di fare, costruire e studiare e che dia perciò un grande obiettivo al paese. Non si tratta solo di cose tecniche, si tratta anche di spinte di carattere morale, etico, valoriale. Ecco, per questo serve fiducia. Lo dico perché noi siamo angosciati da una legislazione che è basata sul controllo, sulla sorveglianza e sulla sfiducia dei cittadini e degli imprenditori. Che cosa bisogna fare? Innanzitutto teniamo presente che i cantieri non si sbloccheranno, altro che semplificazione, i contratti pubblici non andranno avanti, finché i funzionari pubblici non avranno certezza sui confini delle loro responsabilità penali. Più del 50% delle inchieste per abusi di ufficio si chiude con un proscioglimento o con una soluzione. Ma nel frattempo il dipendente pubblico incriminato ha visto la reputazione infangata, la carriera bloccata e le disponibilità finanziarie ridotte per essere stato costretto a pagare un avvocato. Quindi bisogna fissare certezza sulle regole penali. In che ci sarà incertezza? Sarà difficile che il pubblico funzionario sfugga alla paura della firma. La stessa cosa vale sul fronte degli imprenditori. Gli imprenditori sono terrorizzati dal fatto che qualunque passo fanno rischiano di essere oggetto di sorveglianza, controllo, sospensione, messa sotto controllo dell'attività imprenditoriale e così via. Ora, cosa bisogna fare? A mio avviso occorrerebbe innanzitutto assumere nella pubblica amministrazione una generazione giovane, educata all'uso delle nuove tecnologie e dare vita a procedure amministrative, ed è tutto diverso dalle vecchie, simile a quelle dei paesi più vicini a noi, con i quali noi dobbiamo concorrere. Ora, teniamo presente, si parla di semplificazione. Io conosco un po' la legislazione sui contratti pubblici, devo dirvi che semplificare non serve a niente. Quella roba lì non è semplificabile. Bisogna accantonarla e mettere in piedi nuove regole semplici fondate sulla fiducia. Si dà fiducia, chi sbaglia paga e paga duramente, ma si dà fiducia, perché un paese senza fiducia non riesce a vivere. Un paese nel sospetto, nella sorveglianza e nel controllo affoga. Questo è il punto di fondo, questo è il cambiamento, questo è il valore ideale nuovo che deve muovere lo Stato, il governo, i poteri pubblici nei confronti dei cittadini e degli imprenditori. Fiducia innanzitutto. Fiducia innanzitutto.